Salve a tutti, io sono TheLongamer e benvenuti su High On Life, gioco ideato dai creatori di Rick e Morty, quindi completamente fuori di testa. Preparatevi a diventare dei cacciatori di taglie spaziali e avremo a nostra disposizione diverse armi che in realtà sono alieni parlanti e dovremo cercare di salvare il mondo, quindi andrà tutto storto ovviamente. Buona visione! Con quale musica anni 80 non me lo dici? Ma cosa c'entra la mia ex moglie? Ah, per inciso, questo non è il gioco, questo è il tutorial del gioco inserito in un gioco. Vabbè, fra pochi secondi capite, ma non è questo il gioco, fidatevi. Ho la fucking impressione che abbiano fributato Doom e compagnia bella. Sì, sì, so come fuggono tutti i giochi. Ok, uno e due... No, 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 ha funzionato! Ma io che ne so, non c'entro niente, sono solo il protagonista di un videogioco in questo momento. Ma cosa c'entra? Ma cosa sta accadendo? Ma il peggior tutorial della vita. Sarò anche il tuo unico cliente, molto probabilmente. E basta! Non devi leccarmi il culo, porco cane. Aspetta, 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 che sto cercando di abbattere tutti i nemici. La mia ex moglie non avrò mai tutto il mio denaro. Non dovete passare sul mio cadavere, sento cielo, maledetti. Aspetta, aspetta che ricarico. Uh, quello può esplodere, sì. No, non posso ingrandire i sottotitoli, ragazzi. Quindi non roppete le scatole dei commenti. E non ho fatti, quindi non potrei farci nulla. Ci sono un po' troppi nemici. Potrebbe essere un po' complicato. Peraltro, guardate in basso la mia immagine. C'ho il baffo anni 70 che è qualcosa di assurdo. Aio! E mo basta veramente, però. Wow, wow, wow. Che sta accadendo? Buongiorno. No, no, nulla di nulla. Ho già chiuso i pornazzi. Porca miseria, che c'è? Sì, sono contento per testa o per farmi demonetizzare ulteriormente il video. Lasciamo stare che è meglio. Ok, e anche oggi si gioca domani. Con quanto lag non me lo dici, ma ho dettagli. Beh, una cosa è certa, al nostro protagonista piacciono un sacco i poster. La parte che vi ho censurato mi ha permesso di scegliere l'estetica del mio personaggio. In maniera che lasciamo stare, perché se monetizzano sto gioco e se sto video è già un miracolo. Come dicevo, i nostri genitori sono andati via per una settimana, quindi la mia sorella maggiore, ovviamente, mi sta introducendo al lato oscuro della vita. Ma perché papà mi odia, santo il cielo? Ok, tranquilla. Però, ragazzuoli, sta gente se la passa molto bene. Casettina di tutto rispetto e questo gioco è molto più legit di quanto mi sarei mai aspettato. Allora, mi hanno lasciato un messaggio, però ribadisco non si è mai saputo chi fosse realmente mio padre. Vediamo un po' che c'è scritto, probabilmente mi insulteranno. Ciao tesoro, sarebbe stato carino se avessi deciso di scendere a salutare me e tuo padre prima della nostra partenza. Speriamo che tu sappia quanto ti amiamo, ma non possiamo continuare a sostenerti. Se te ne stai tutto il giorno a giocare ai videogiochi, dovresti seguire l'esempio di Lizzie. È già stata accettata in tre scuole importanti. Spero davvero che tu rimetta la testa a posto. Perché non pensi a un piano prima del nostro ritorno? Con affetto, mamma! Mia sorella si stava facendo di troche in camera mia, ma vabbè, dettagli. Sì, è così che ho scelto il personaggio. Lasciamo stare, ragazzi. Arriva, porta pazienza, Willa. Che bel vicinato, molto americano, signori, eh. Ok. Che sta succedendo? Wow! Questa non me l'aspettavo? Ok, gli alieni stanno invadendo la Terra. Perfetto, ci mancava anche questa. Sono anche orribili questi alieni. Ovviamente non capiamo quello che stanno dicendo. No, signore! Dove sta andando? Demenza senile? Ah, ecco. No, signore, quello è un alieno! Oddio! Che stanno facendo? Si stanno fumando il vicino? Eh, io che ne so, ciccia! Però c'ho la sorella gnocca, almeno, mi consolo. Ah, sì, se non lo avesse capito, in questo gioco gli alieni si vogliono fumare le persone. Piccolo dettaglio. Andiamo avanti che è meglio! Sta cercando di favorire. Oh! Perché gli hanno sparato a quello? Oh! Stanno ritornando indietro? Wow! Che figata sto effetto! Sì, ma io sento rumori da qualunque parte, santo cielo. Che è sto rumore? Buongiorno! Viene da sotto il cadavere del tizio? Che puoi... La mia pistola parla! Wow, che figa sta pistola, peraltro! Cos'è che vuoi dalla mia vita? Ma perché mi hai sgattarato in faccia? Eh, devo tirare per davvero? Sembrava una supposta. Ah, ok, ok. Ok, 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 ok. Che succede? Ok, credo di aver capito, più o meno. Moriteci, maledetti alieni fattoni. Wow! Guarda che roba! Un'invasione in pieno stile, peraltro. Wow! Porca miseria! Corri! Corri, schiappate! Ma che figata, non è sta cosa! Peraltro la voce della nostra pistola è quella originale di Morty? Aspetta, aspetta! Ma fate schiperrimo! Ma che cocchio! Ok, sarà ovviamente pieno zeppo di alieni con degli occhi giganteschi, come spesso capita in questa serie di giochi. Aspetta, mi sa che c'è ancora gente, eh? Buongiorno! Salve, signore! Guardi che la vedo là dietro, eh! Buongiorno e addio! Ok, se mi dai una mano, magari non sarebbe male. Perfetto, mi sono porto via al cristallosso. Svicini, fuggite! Presto, prima che sei troppo tardi! Casino, petta! Mi stanno sparando alle spalle, non mi ero accorto! Volevo condermi in esplosione, mi aspettavo di esplosire un momento all'altro. Ricarica, ricarica, canni! Oh, canni, non mi aspettavo di parlare con la mia pistola. Questo è poco, ma sicuro. Il problema è che essendo una pistola non ha una precisione, una potenza di fuoco. Incredibile! Ok, 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 entri in casa, entri in casa, entri in casa. Sorellina, come avanti, sorellona? Ok, ok, microonde, microonde, microonde. Ce l'ha! Ce l'ha! Aspetta, collega tutte cose, vai! Casino, trema tutto, santo cielo! Oh! Funziona? Siamo a posto? Che sta succedendo? La macchina si sta caricando? Ha funzionato? Ha funzionato? Ah! Ah! Saranno morti probabilmente Sorellona Datti una bella lavata che direi che ne hai bisogno Ah questo è poco ma sicuro Ok voglio scoprire cosa c'è là fuori Wow Ma mi prendi in giro Ok No vabbè la voce originale di morti è troppo bella La prima stagione lo guardate in inglese Quindi mi ero affezionato alla voce Del doppiatore Quindi vado da una persona e gli chiedo Non ha tutti i torti in effetti eh Ok ci sono delle strane api volanti peraltro Da quello che ho capito sbloccheremo diversi poteri e abilità Mano a mano che andiamo avanti Che ci permetteranno di esplorare Nuove zone della città Che prima erano completamente irraggiungibili Ma davvero questo gioco è molto più legito del previsto Sta città è carinissima Salve signore buongiorno No Poi perché i pesos scusate siamo nello spazio Buongiorno Esatto Ok vediamo se c'è qualcun altro Salve signore Direi che non era un grande cacciatore di tagli Probabilmente è quello che cos'è La cosa bizzarra è che in mezzo alla città degli alieni C'è casa nostra Stona giusto un attimino Ma come funziona sta cosa Allora panchina panchina Non ho dato un'occhiata da questa parte Oh no Ah per adesso non posso accedere a quell'area Ah ah finalmente ti ho trovato Buongiorno Signor Gene scusi Ah ha un problema un occhio poverino Oh my god It can't be What do you want You're not the famous bounty hunter Gene Zaruthian are you Who's asking You're really Gene Yeah I'm really Gene That's me like on the ads Disappointed Guess how I feel Ok well Whoopsies We were going to ask for your help fighting the G3 cartel but Kid Do I look like I can help anyone I just got evicted I don't even have a goddamn home Can you point us in the direction of you know A bounty hunter friend that's still working You know Still has their legs Oh 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 Look at that nice house God damn Where did that come from That's a great fucking house You see that house Si è mia Si faci i cochi suoi That's this hairy alien house The one holding me Oh damn Can't stop looking at that beautiful house Non si faccia strane idee Esatto Come on Come on Come on That's crazy But Ok Whatever Whatever Yeah 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 Sure We'll kill them all Easy I've got a fully operational Bounty suit in my cart Over there Really That's convenient Yeah I could turn that hairy Kitty yours into a true blue Bounty hunter But if they die I want the house Ah ok Are you sure I don't think they've even fired a gun before today And wait You want the house in return Yeah This is a great deal for you I mean You get all my old bounty hunter shit And I might get a house I don't know Enough talking Just be a gun for a second You Harry kid Put on the suit See how you feel Then make a decision Yeah I can always just pull this shit off Ok Go ahead Try it on What choice do we have Ma puzza Da morire Il tizio non si lavava da mesi probabilmente Mi starà sta roba Cioè Non è che abbiamo proprio la stessa taglia Ok Forse si è adatta al corpo umano Uh Non è male Sembra molto legit Oh You look great kid Natural Definitely Not gonna die On your first bounty No Certo Certo Oh oh Che succede Chiave di attivazione Non trovata Questo è un problema Oh no Questo romperà le palle parecchio Ok Premi T per usare il tuo info scanner Ok Perfect Great job I've identified your current objective Ok Lo vedo lo vedo Eccolo laggiù Ah Non sono Gene Che succede Ci sono i pop up Troppi pop up Ma che cocchio Quindi quando uso la scansione Possiamo controllare la zona tutta attorno a noi Stile banca Mediolanum Ma non possiamo arrivare in questo modo Non vedo praticamente nulla Ma stiamo scherzando Ma dai Ma che schifo Ma che schifo Ve lo no Oddio mio Pistola Antichiani Sei la più Pistola che io abbia mai avuto Ah Buon salve Salve Signore la prego Mi dia una mano Non vedo nulla Praticamente No No Yey Molto meglio No assolutamente no Sì o certamente Ti odio nel profondo Oh porca miseria Ho visto che sbirciava Ma non c'è bisogno di insultare Sì ma se dire Che è la mia prima giornata Sul posto di lavoro È troppo fuori di testa Siamo solo All'inizio Grazie Molto professionale Da parte tua Oh oh Ah no Quello è il messenger Perfetto E quindi Abbiamo anche un software Di messaggistica All'interno Mi piace come da queste parti A nessuno frega un cocchio Che sia comparso All'improvviso Una casa Ehi là E questi No Non è normale Cosa avete combinato Dove è mia sorella Oh mio dio Ah forse hanno tolto il cadavere Sì direi che hanno tolto il cadavere Come va qua dentro Buongiorno Wow è grande E mia sorella Non è mia madre No Non sono i miei figli Sono i miei figli Che credo che sono Sì O Ecco Boll Non so Quali tipo di aliena Sei o quanto 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 O, potevi andare tu, eh? No, no e poi no! Sì, lo è, lo è, lo è Oh mio Dio, almeno sei riuscita a darti una lavata Jean, porco cane, spegni la TV Non so che tosia Siete tutti molto arrabbiati e molto maleducati, eh? Nine Torg, matriarca della famiglia Torg Che ho fatto? Portale fallito? Oh, la mia giornata non è iniziata per niente Bene, santo cielo, pensavo che lo spazio sarebbe stato Ho capito Ok, ho capito Porta pazienza Che io devo imparare a familiarizzare Con tutto questo nuovo mondo Però che pistola figa, non è Kenny? Ok, dobbiamo andare da... Oh no, questa parte Che volete voi due? Don't even think about going down in the slums Yeah, this is a maintenance only shaft So scram! Ok, that's gotta be the way into the slums Here, let me sweet talk these two, um, weirdos Hey, uh, Kitka, excuse me Can we get our, uh, we need to make our way into the slums, please? No Hold on So you really wanna get into the slums, huh? Then settle a bit for us Come on, come on Don't, don't make him answer this, man No, I wanna know Ok, direi quello blu Perché sembra un attimino più... Che abbia le palle cubiche Scusate, io dovrei andare avanti Se avete finito con i vostri drammi Oh, adesso mi sento in colpa Dai, cerchiamo di dare ragione a quello rosso, poverino Well, hold on We take it back The red one's actually hotter What, are you fucking with me? Oh my god Thank you I, I am so happy I, I, I really feel like I'm gonna cry right now Hey, you can't change your mind like that It's unfair And it's also stupid Because I'm way hotter You just made a lifelong enemy, pal Hop in and out of slums At your leisure It's on me I, I'm just so grateful You think I'm, I'm hotter You know what? Please, please use my door Use my door anytime you want Ok Sì, sono tutti fuori di testa così Gli alieni da queste parti Ok, possiamo usare questo condotto della manutenzione Per raggiungere la prossima zona Oh no No, no, grazie Non compro nulla Oh my god I broke my fucking leg Coming down that pipe Ah Uh Si è fatto malissimo il tizio Ragazzino, levati dai maroni Oh boy, here we go Fucking kid What's wrong, fresh me? You scared of a little kid? Eh, yeah, I have a little kid Look at me Look at me Eh, you scared of me? Oh, I'm scary Not Eh, eh, eh But maybe I am Eh, 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 eh Look at me, I'm scary No, we just want to get past Come on, let's see what you got, fresh me Maroni, non lo sopporto più How are you gonna deal with nine torgs goons? Don't let them get to you Eh, 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 eh Look at, fresh me Getting flustered by the live Come on, he's just a kid Don't shoot him No, stavo sparando in giro Just because you're gun Said not to Just because you're your little gun Oh, but look, look how shootable I look I look so shootable Wow Oh, porca miseria Uh Ok, dobbiamo eliminare Tu, prova Eliminiamo i testimoni Un attimo che sto ricaricando Elimina tutte Non vado in galera Noi ci torno Ok L'abbiamo risolta pacificamente Uh, mi hanno troppato cose Credo Ok, quindi questi Sono i bassi fondi Uh Non se la passano per niente bene Sti poveretti Uh, che schifo Uh Buongiorno signora Posso chiedere qualche indicazione stradale? Era figlio suo? Come? Ah, meno male Signora l'ha presa anche troppo bene E mi sento in super mega colpa Ok, cerchiamo di procedere Oh, no Cosa volete? Oh, no Devo ovviamente sparargli in faccia Ok, me l'avete chiesto voi Praticamente Potevate lasciarmi passare? Ok, ora ragioniamo Uh, guarda quanta gente che c'è Eh, ora posso mica sparare a tutti Ok, facciamo esplodere un po' di barilozzi Sì, nel frattempo Porca miseria Ci sono scagnosi che volano in qualunque direzione Perfetto Ma sembrano delle adorabili formichine Mi vengono quasi Dico solo quasi I sensi di colpa Quello esplode? No, quello non esplode purtroppo Ok, da quello che ho vinto Abbiamo una sorta di scudo Se si carica completamente Cominceremo a subire danni Alla barra della vita Che non so come riflessinare Alla statuale Che droppano delle cose Forse sono cose per la vita Ah Per adesso abbiamo solo un'arma di base Ma non manno che andiamo avanti Otterremo altre armi Che possono parlare anche loro Ognuno può influenzare i dialoghi stessi Con gli alieni E insomma cambiare un sacco di cose Oltre che ovviamente La modalità di fuoco Olè Perfetto Ok Devo dire che abbiamo iniziato Col piede completamente sbagliato Oh ma dai Sì lo so Lo so Mi fai darmi un cato in giro Ogni tanto Kenny Porta pazienza Sì 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 Ok ma porta pazienza Ok ho capito Gioco ho capito Buongiorno signore Ah abbiamo anche le opzioni Di dialogo Ah buongiorno Ma come Oh ma dai Ok lasciamo stare Che è meglio Vediamo di ottenere Delle informazioni Ok grazie Molto gentile Sì sì salve Non si faccia ammazzare Mi raccomando Teoricamente potrei ammazzarlo Anch'io eh Per inciso Posso Credo uccidere qualunque cosa Qualunque NPC Fare quel che cocchio mi pare Tutto molto normale Vabbè Devo premere Wow Sì non lo voglio sapere Non lo voglio sapere Troppi dettagli all'improvviso Oh possiamo aprire quindi Nuovi passaggi Intanto mi sta scrivendo Jean Devo prendere in prestito Una cosa dalla tua stanza No Jean Non entri nella mia stanza La metto a posto Quando ho finito Ma forse in te Non la toccherei Con la K peraltro Ah questi non li posso aprire Ha detto che mi serve un oggetto Affilato Per poterli aprire In effetti Ci hanno mandato A recuperare un coltello Ora che ci penso bene Potrebbe essere l'arma Che fa al caso nato Vai Aspetta un attimo Ma se gli sparo sotto Non è che ruota comunque Oh Ci ho pensato adesso Porcaccia la miseriaccia E Vai Ottimo Ok Mi stupisco che tutto ciò Sia stabile Va che ste mappe Sono fatte veramente Tanto bene Come ho detto Pensavo che fosse un gioco Molto più semplice E semplicistico Se devo fare così Wow Ok Sì ho capito Ho capito Ho capito Si ricarica Così Facile Perché è un'arma Di livello Base Quello che ho visto Poi la possiamo potenziare In modo tale che diventino Molto ma molto più letali Signore Ha un pochettino Rotti maronzoli Facci pazienza Ok Io continuo a esplorare Abbiamo fatto una stage Un pochettino Ok Vediamo se funziona Sta pistola è veramente Multiuso Sono il tuo amante Stevulax Tornato dal regno dei morti Evitiamo di farli arrabbiare Diciamo che siamo il cliente Oddio Sarei tentato Sarei troppo tentato Va bene lo faccio Non dovevo farlo Buongiorno Grazie grazie Oh mio dio Mi dispiace Oh ma dai Ma che schifo Ho capito Ho capito Ho capito Dati una calmata ciccio Sono hotello Ok ok Ho capito Ho capito Ho capito Vediamo un po' Ho funzionato che è troppo bene Scusi La devo accoltellare Per esigenze di trama Ah 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 Ok A posto No 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 Non mi accoltello da solo Ho capito Premi è per attaccarti a oggetti magnetici e agli insetti gancio Ah molto interessante Devo essere ovviamente a una specifica distanza Wow Ok quindi faccio così Ok ma si dia una calmata Aiuto il coltello mi fa paura Voi Ok ok Wow E' pieno zeppo di moneta all'interno Mi sento leggerissimamente in colpa Allora aspetta dobbiamo far ruotare questo Vai Perfetto così possiamo proseguire Mio dio Ah ok ora sappiamo Che ha problemi con un occhio poverino Attimo un secondo che T'ho cercato di familiarizzare abbastanza con i pulsanti Ok Davvero? Ok Ok Sappiamo come ricaricare la sua abilità Che è cotto buona e tanto Giuseppe Ammetto paura di scoprire cosa accadrà quando sbloccheremo anche le altre armi Oh mio dio Oh 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 Male Molto male Molto male C'è decisamente troppa gente Vabbè ma li posso anche coltellare da vicino Ah E' vero Guarda che c'ho il coltello E' molto più pratico in effetti Buongiorno signore Come va tutto bene Lo prendo come un no eh Signore c'è il 3x2 sulle coltellate Non faccio complimenti Ah non li shottiamo sempre Ok Fetta E oddio Fetta Ricaricati e non rompo i maroni Kenny Se la pistola non risolve i problemi Sicuramente il coltello Ti darà un netto vantaggio Porca c'è la mia idea Kenny ricaricati Fetta ci trovo che si cosi Tu canaglia Devo fare attenzione a non finire nel cuame Oh sono tutti strati ricarati male Ok Rimietto anche questo Rimietto anche il cugino del tizio Ottimo Buongiorno donatemi Credo che siano le monete Vediamo un po' Ah era il posto perfetto per una chestnut coaster Ok dobbiamo andare da quest'altra parte Occhio che è pieno zeppo di nemici Quindi boinkete Lo sapevo Lo sapevo che piusate di essere più furbi Dello ziotelone Ricarica Arca boiazza E Dove siete? Buongiorno Vi muovete decisamente troppo Come ho detto Sì sì Adesso ho coltello qualcuno Oh ma siete tutti fuori di testa Aspetta vieni qua Vieni qua Vieni qua Ok ottimo E mi state girando Bravi bravi figlioli Oh scudo rotto Ti rompo anche altro Tanto cielo Oh oh Non volevo entrare qua dentro Oh no I cloni si stanno uccidendo tra di loro Buongiorno Salve Aia Si passa subito la boss battle Vero? Nine Torg Yeeey Oh porca boiazza C'è anche il teletrapporto Signora Stia ferma un secondo Grazie molto gentile Ah no c'è bisogno di insultarti Aspetta No Ti te ne trasporti in culo Ah ah Ti ho buttato in acqua La cretina Vabbè non è acqua Sono l'iquami Ok inutile mirare Cerchiamo di sparare Outcocchium Dove sparo sparo E tanti saluti Wow Aspetta 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 Mi ha buttato giù Lo scudo tantissimo Scudo Quando vuoi ricaricarti Non mi arrabbio Ok ricaduto in acqua Ah 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 Non ti vedo Mi sta molto bene Aspetta 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 Ah Ceravo di colpirla con la F Che sta facendo Wow Eh certo Oh oh Tutti rumori brutti Ah mi ha tolto la piattaforma Da sotto la bastarda Oh Occhio 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 Ok C'hai provato C'hai provato Fetente Oh Ho capito adesso Ho capito adesso Oh mio Dio Portate pazienza È una giornata difficile Per tutti Casino Ok Buona sapersi Totti Fermo a 5 secondi Ok ho colpita Non provo neanche a coltellarla Come ho detto Perché mi schiva l'attacco No C'hai provato bastarda Ah Fita nello schifo Grazie signorina Eh Tra due secondi la salvo Porti pazienza Perché lo contro il più difficile Del previsto Ah ah Eh vabbè Ma non mi rimane più Piattaforma praticamente Ok Porta pazienza ciccio Oh Continua a grapparti Continua a grapparti Non mi ammollate proprio adesso Casino Quando torna la mia piettaformina Ok la piettaformina è tornata Wuhu Oh Tatti si Tenero per le scatole Ok L'avevo tolto solo metà della barra della vita Oh No Non vale Fettentissima Bastarda schifosa Vola nello schifo Adesso non più nessun puto dove potermi proteggere Oh oh Dov'è? Eccola 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 Vai 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 Pugliazza Stanno andando di colpo a colpo a colpo No 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 Decisivamente no A quanto pare Metta Vai Colpisci là Perfetto Vola dentro Vola dentro Kenny perché ti devo sempre ricaricare in due secondi Ah 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 Ok ci siamo quasi Ci siamo quasi Quasi morta Perfetto Ancora un po' di colpi Che sta facendo? Oh oh Sì Oh Siete fuori di testa completamente Ma cos'è sta roba? Ai puto Voglio vivere Voglio vivere È andata completamente fuori di cervello Aiuto E vabbè A posto? Emore C'è quanto il secondo? Ok L'ho coltellata male Signore È stato un piacere incontrarla No nemmeno io Ma perché? Ha ragione in effetti eh Ok va bene Non voglio sapere nulla Ah 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 Oh mio Dio Ah ah Non mi fido Non mi fido Ancora farei un po' di crime Ma Siamo cool Huh Aspetto a me Mi sono preoccupato Sei un amico della famiglia di Torque E benvenuti qui Qualcun tempo Un Torque onorario Tu puoi essere 10 Torque Ora se ti scusami Il mio giorno Si è diventato molto fullo Aspetta aspetta che c'è anche una chest Pensavi che non ti avessi visto Piccola bastarda Ok Saltami dall'altra parte Devo Sbloccare un doppio salto Quanto prima Ok Apriamo la via d'uscita A posto Non mi spara nessuno Ora vero? Siamo tutti amici come prima? Lo prendo come un no Si in effetti Avevamo già vinto lo scontro Ma per davvero? Ma imbecille di turno Ok Ora abbiamo sbloccato Nuovi accessi All'interno della città C'è la chest che devo far fuori Ehi sono Lizzy Gene mi ha fatto usare Questo coso Per i messaggi Non so come risponderti Ciccia Non mi hanno dato La funzionalità per adesso Dice che hai fatto Una brutta fine Ma sono solo No sono ancora vivo Sono ancora vivo Tranquilla sorellina Eh sorellona E per riuscire a non morire male Avremo bisogno Di un sacco Di ricchezze Oh Ti vedo là dentro Mio Dio Perché dovete mettere Le facce Tutte sminchiate Dai eh Come arrivo lassù? Ah non ci posso arrivare E niente Come ho detto Alcune zone Le potremo raggiungere Solo dopo aver migliorato Il nostro equipaggiamento O averne sbloccato Di nuovo Oh aspetta Don't pull a muscle bounty hunter Jesus Whee Ok Così è molto più pratico Aspetta un secondo Forse ho capito come fare Se gli salto sul nasino Boinkete E poi facciamo così De Scusa eh Come non ho detto Ti posso coltellare Fin dall'inizio Yeee Altri 200 pesos Se ho capito bene Il mio commentario Sarà praticamente ridotto All'osso In questo gioco Proprio perché Parlano in continuazione Ma popo uno sfacelo C'era un telefono Che squilava Buongiorno Hello No Signora ha sbagliato numero Ma Cioè vi rendete conto Che hanno perso tempo A pagare doppiatori Qualcuno a scrivere dialoghi Per un telefono Che avrebbe squilato Randomicamente Lungo la strada E a cui molto probabilmente La maggior parte delle persone Nemmeno avrebbe risposto Scommetto che te la stai spassando Alla tua grande Con la tua nuova tuta Giocattolino Non è vero Sto tornando a casa Ma che due balle Mia sorella Oh puoi venire anche tu A fare la cacciatrice d'Italia Eh Non è che m'offendo Mi farebbe comodo Una spalla Seriamente spero che tu Non abbia tirato le cuoia No Sono vivo Sono io che sto sparando Alle porte Alle fine stelle di casa Che cocchio Scusate Domanda legittima Perché c'è una serratura Non c'era prima Buon salve Qualcuno mi apre Aio Aprite la porta Ho capito Datti una regolata Perché il coltello Così tanto fuori di testa Signori Che mi sono perso Ok Stanno cercando di dare Una ripulita Alla casa Mi consolo Come va Che mi sono perso Ha installato nuovi luci Perché ha pensato che tu sei matato Che stai dicendo Che è il suo Già Che? Non Ho fatto Ho fatto la libertà di migliorare la sua sicurezza Ahah Hai Tu veramente matato Nine Torg Si Havamo In realtà Havamo 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 Spero sincero con te, ho aspettato di morire. Oh, grazie. Quindi, come ti senti? Mettere 912? Mi sembrava bello, mi sembrava bello. Hey, Gene, ripetere la scuola e evitare il tuo solito pelle per me. Mi viene in caldo. Si, ho scopo il quattro. Non ti senti solo a lui per ora? Oh, certo, sì. Siamo giocati da te. Sì, grazie. Ora, vedi il tuo bonti nel bonti 5000. Ho tutto per te. No, seriosamente. Devo scoprire lui. Credo non stia scherzando. Lo butto là. Mi è per pugnalare contello. Ciccio, mi dispiace ma lo devo accontentare. Però sennò prima o poi pugnalerà me. Porta pazienza. Ok, è difficile. Proviamo ancora prima. No, spero. Evitiamo e non peggioriamo ulteriormente la situazione. Sorellona, che mi racconti? Quindi, sei un tipo di bonti hunter ora. Cosa vuoi salvare l'umanità? Tu solo uccidi i ragazzi, non i buoni. Sì, è abbastanza cool, certo? Sei orgoglioso di tua sibling qui? Non davvero. Ma ti piace. Ti piace. Ok. Ehm. Domanda da un milione di dollari. Ci ho pensato solo adesso. A quale parte del corpo di Kenny io mi sto aggrappando con la mano? Lasciamo stare. Non farti queste domande, Lon, che è meglio. Ok. Quindi ora ci dovrebbero pagare? Ok. Ricompensa mille. Vai. Ha funzionato? Tu? Tu sei un vero bonti hunter ora. Ha, guardatevi questo. Credo che ci stiamo veramente facendo. Si. Non ho chiesto di farciare così rapidamente. Non ho anche alcuni leggi sui bonti G3. Tu sei... Certo per andare dopo loro, eh? Certo. Ci prenderemo tutti. Incluso Garmantius. Beh, è sicuro di provare. E se lo faccio, potresti volare a la paura di 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 paura. E intanto ha riacceso la televisione. Yeeey! Posso permettermi un po' di spese? Datemi giusto un secondo perché ha detto di aver fatto casino in camera mia. Mi sembra ancora tutto molto normale. È tutto ancora al suo posto? Sono al piano di sopra, potresti non parlare. Non sono neanche nella stessa stanza tua. Signori, il gioco è strano e soprattutto non so se il video sarà monetizzato. Dipenderà tutto da quello perché, purtroppo, avendo portato C-A-L-L-I-S-T-O protocol, mi ha causato un problema di monetizzazione a tutto il resto dei video per i prossimi tre mesi, no? Non sto scherzando, YouTube funziona così. Vabbè, sì. E comunque, primo episodio completamente fuori di testa. Speriamo di poterci continuare la serie. Dipenderà ovviamente anche dal supporto, dalle views e via dicendo. Nei commenti allora fate sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi accoltello male male col mio coltello fuori di testa. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao, ciao!